Musica Qualsiasi cosa ragazzi lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdervi niente dei video futuri Controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa Soprattutto ragazzi cliccate sulla campanella ozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri Buona visione Soprattutto ragazzi Soprattutto ragazzi Prendi da giurale L'esercizio musico Porterà la confisca e lo strato dall'immobile Prendi da giurale Il fulcro del potere dei Borgia e dei Templari Uccidere un solo uomo non cambierà nulla Dobbiamo estirpare la fonte dell'uomo Mi stai suggerendo di fare appello al popolo? Forse Affidarsi al popolo è come costruire sulla sabbia Ti inganni La fede nel genere umano è il cuore della nostra compateria Deve essere un tuo adepto quello Va Recupera ciò che ti ha rubato Vediamoci al Campidoglio Ma attende una persona di fiducia Ridammi il mio denaro Torna qui Qualcuno ha bisogno di una lezione Sparisci Prima che mi pentate Non ti risparmiato la vita